C'è stato un incidente questa mattina in Viale dei Romagnoli all'altezza di Ostia Antica. Erano circa le 8.45 quando il conducente di una Lancia Y, forse per evitare una voragine profonda, ha perso il controllo dell'auto finendo, come vedete, nella vegetazione a bordo strada. Una Ford Fiesta non ha avuto tempo di frenare tamponando così la Lancia. Fortunatamente entrambi gli automobilisti non hanno riportato ferite.